di Fanucci, perché non si può fare altro che un sorriso, nel senso che è stato bravo il Presidente del Consiglio, come sempre per il resto dal punto di vista della comunicazione, a spiegare agli italiani con dieci slide o diapositive, chiamiamole come le vogliamo, quello che sarà il futuro della manovra di bilancio del 2017. Però io sono abituato le manovre del Governo a leggerle, vengo da un'esperienza lunga di amministratore e voglio sempre leggerla tutta, fino in fondo, perché una cosa la so per certo, che il mio comune l'anno prossimo avrà due milioni in meno sul fondo Tasi, per esempio, e che un comunello, un paesello come il nostro, nonostante sia una città importante per l'arte e la cultura, ma continua ad essere un piccolo centro di provincia e di periferia, questo dato è un dato preoccupante. Questo non ce l'ha detto il Presidente del Consiglio l'altro giorno nella conferenza stampa, ce l'ha detto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ovviamente sul ragionamento della prospettiva 2017, perché i comuni dovrebbero approvare il bilancio entro la fine dell'anno, poi siamo in uno stato strano dove entro la fine dell'anno il Governo fa il famoso decreto per cui dice approvateli pure entro la fine di giugno, e questa è una cosa incredibile, ma noi siccome approveremo il bilancio entro il 20 di dicembre, il dato che il nostro ufficio ragioneria ci ha comunicato, il primo dato è questo. Quindi, cosa vuole che le dica? Sono estremamente preoccupato da questo punto di vista, perché l'anno scorso quando si ragionava sull'eliminazione del patto di stabilità per i comuni, eravamo tutti felici e contenti, c'è chi brindava, c'è chi anticipava le vacanze, poi alla fine sono stati introdotti i cosiddetti otto controlli obbligatori di bilancio per quanto riguarda il pareggio di bilancio, che da un punto di vista tecnico, ora bisognerebbe farci una giornata di studio sull'argomento, ma c'è chi l'ha fatta ed è più bravo di me, ha sostanzialmente peggiorato la situazione. Quindi, vede, bisogna in qualche modo, e la mia non è una critica preconcetta, io faccio l'amministratore, mi rapporto alle istituzioni con senso di responsabilità e quindi il Presidente del Consiglio avrà fatto i suoi conti, non credo che la mattina si alzi per far del danno alla comunità. Però oggettivamente la situazione economica dei territori, che a occhio sono quelli che poi danno i servizi, Sabella ha fatto l'assessore, quindi lo sa meglio di me, Fanucci ha fatto il vice sindaco a Montecatini, lo sa quanto è me. Il cittadino viene a dialogare con te, che sei il sindaco, l'unico elemento diretto oggi sul territorio, è l'amministratore locale, è l'assessore, il consigliere comunale, il sindaco, che poi è colui che riceve tutti alla fine, perché, o da un altro ormai è così, il cittadino parla sì con il consigliere, parla sì con il funzionario, parla sì con l'assessore, in realtà piccola e tenta di andare a parlare con il sindaco e il Presidente vive una realtà un po' diversa da quella che vediamo accendendo la televisione. Questa è la situazione.